La pietra e il silicio è la mostra ospitata nella chiesa di Santa Maria dell'Angelo a Faenza in occasione della Piennale del Mosaico, arrivata quest'anno la sesta edizione. In mostra le opere del mosaicista ravennate Marco De Luca, uno dei massimi esponenti della tradizione musiva ravennate contemporanea. L'esposizione è stata data dal Museo Diocesano di Faenza in collaborazione con i comuni di Faenza e Ravenna e, dopo l'inaugurazione di sabato 5 ottobre, rimarrà aperta al pubblico fino al 9 novembre. Questa mostra innanzitutto nasce all'interno di una grande manifestazione che è la Biennale del Mosaico Contemporaneo di Ravenna, quindi una mostra che come Museo Diocesano promuoviamo in collaborazione con il comune di Ravenna evidentemente e il comune di Faenza. Una personale di Marco De Luca, uno dei più grandi mosaicisti, uno dei più grandi artisti del mosaico che ci ha donato veramente una grande emozione accettando di venire qui a Faenza. È una grande mostra per tanti motivi, per il numero delle opere esposte, per il contesto nel quale la mostra si colloca, una grande mostra anche per i tanti eventi che dal 5 ottobre, giorno dell'inaugurazione, inaugureremo alle 11 di sabato mattina fino al 9 novembre, una grande mostra che all'interno di questo mese vedrà tantissimi eventi per riflettere sul mosaico, sull'arte contemporanea, sui grandi temi anche della vita. Che cosa ci propone Marco De Luca? Uno sguardo sulla realtà, ma uno sguardo trasfigurato, quindi ciò che lui ci restituisce attraverso le sue opere è una visione poetica, delicatissima, commovente. E quindi vi invitiamo tutti a venire a visitare questa mostra, la Pietra e il Silicio è il titolo di questa personale, che dal 5 ottobre fino al 9 novembre sarà ospitata a Santa Maria dell'Angelo a Faenza.